... ... ... ... ... oggi ma beccapelli questa è la versione a 100 centimetri e comunque è molto stabile come il cento pugni senta anche il timone può andare anche molto lento senza andare in installo come vediamo anche si muole quasi fermo oggi è assenza di vento quindi si controlla molto bene sono 60 minuti da un pezzo no